Il Real Forte Querceta ne ho promosso in eccellenza, pensa già in grande. Cambio dell'allenatore al posto di Alfio Spagnoli ha prodato Maurizio Cerasa, Esques, Ghivizzano, Borgo, Fortis, Lucchese. Una squadra che ha ingaggiato Federico Tosi, bomber ex Camaiore e che in Versiglia ha sempre fatto faville. Ci sono poi anche nuovi arrivi come quelli di Andrea Filippi, Gabriele Mazzone dal Camaiore, i centrocampisti Alessandro Remedi, Nicola Redomi, un passato nella Lucchese, Francesco Pera, le conferme del portiere Corradi, il centrale Verdi, il regista Corsinelli, il capitano Arzelà. L'allenatore Maurizio Cerasa arriva qua al Real Forte Querceta con grande motivazione. Facciamo molto entusiasmo, molta voglia, è stata allestita una buona squadra, tocca ora a noi cercare i giusti equilibri e metterla in campo. Un'eccellenza che per qualcuno è nuova, per altri invece l'hanno già disputata, tanti derby, quindi un campionato che sulla carta è davvero interessantissimo. Sì, è un campionato che si presenta vincente, con tante squadre anche importanti. Credo si sia alzato il livello meglio del campionato, di conseguenza ci sarà da lottare e sarà molto gratificante, diciamo, competere con queste squadre. Uno squadrone, insomma, se si pensa che a questi si aggiungono anche altri elementi che hanno fatto bene nello scorso campionato, come sottolina il presidente Alessandro Mussi, che non nasconde comunque l'insidia di questa novità. Noi dobbiamo portare rispetto soprattutto alla categoria superiore, perché è il primo anno che facciamo questo campionato, quindi le voci dicono che saranno anche aggiunte delle squadre molto importanti, purtroppo per il Camaiore e per il Viareggio. Quindi noi siamo molto tranquilli, siamo fiduciosi di fare un campionato, però con grandissimo rispetto, ecco. Sarà un campionato di eccellenza nel suo girone A, Forte Valenza-Versigliese, al via ci saranno infatti Seravezza, Camaiore che dopo il tragico play-out con l'atletico Montichiari dovrà quindi disputare l'eccellenza a meno di un possibile ripescaggio. Il Pietrasanta-Marina e chissà, forse anche il Viareggio. Noi TV trasmetterà le partite interne della Real Forte-Querceta.